E ci credo che non sente, c'ha le cuffie sul capello Sì, ecco siamo in diretta, siamo in diretta dall'Octoberfest Grazie, scusate il capello fuori posto Ma torniamo a noi, scusate se mi do del noi Quale odore per me essere qui alla più grande kermesse popolare al mondo e provincia Cerimonia d'apertura con pochi intimi, solo 4 reggisegni, 8 slip in cotone Ma c'è qualcuno che chiede il pizzo Si stima che verranno mangiate circa 300.000 salsicce, 600.000 polli, 84 buoi e un panino con la frittata E periodo di vacche magre, piatto tipico bavarese, cotte in un forno particolare Che mette uno strano lamento continuativo, è un forno a lagna Per il momento è tutto, a voi la linea